Avete mai pensato che cosa sarebbe la vostra vita senza un senso? Lo dico, la vista. Non a caso si dice diversamente abili, perché un sordo per esempio ha delle capacità di osservazioni incredibili e soprattutto ha un mondo introspettivo ricchissimo. Pensate un attimo ai mistici di tutte le grandi religioni che cercavano il silenzio, la solitudine per ricevere l'illuminazione. E quindi un sordo non è qualcuno che gli manca qualcosa, ma è qualcuno che ha probabilmente qualcosa in più. Il film in programmazione al cinema nazionale di Quarrata parla di una famiglia particolare, ma è anche una famiglia universale, dove tutti noi ci possiamo riconoscere. È costituita da sordo muti, eccetto la figlia maggiore, che lei è la voce di tutta la famiglia. È un film straordinario, un film positivo, che ha commosso l'intera Francia e fatto sorridere anche. Io vi invito a venire a vedere questo film al cinema nazionale di Quarrata. Ricordate, cinema nazionale di Quarrata. Grazie. 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 Grazie.